Buongiorno a tutti, oggi è mercoledì 30 settembre e parliamo di analisi ciclica e voluta su DAX e Fuzzinib. Ieri sera, dopo aver fatto una bella operazione long, nonostante tante attese per la salita e tantissima lentezza, ok, avevamo anche impostato un'operazione short che però abbiamo chiuso per sicurezza in intraday, ovvero ritornando praticamente a perdere qualche cosina, pochissimo però a perdere, per il fatto che avevamo un target dove vedete questo livello a 12.732 di algoritmo e non ce l'ha voluto dare. Dopo aver fatto la prima discesa forte e la seconda candela, è ritornato su a accocciare con la media mobile a 50 periodi. Successivamente, quando il mercato ha chiuso però, i future, soprattutto quelli americani, sono poi piombati verso il basso, cosa che fa riflettere su quanto effettivamente contino più gli HFT che qualsiasi genere di altra cosa. Ovvero, per quanto riguarda il discorso delle notizie, alle 16 di ieri abbiamo avuto delle ottime notizie negli Stati Uniti. Dalle 16 non abbiamo fatto praticamente altro che scendere, tranne che per poi l'ultimo esplorare, ma negli Stati Uniti poi si è continuato a scendere. Per cui, come al solito, la riflessione è relativa ai fatti e ai dati. Gli HFT si muovono in modo da evitare di regalare soldi a tutti, a tutti quelli che programmano magari operazioni short che poi appunto si rivelavano corrette perché prese più o meno in quest'area qua, siamo scesi bene, mancava poco ad arrivare qui e invece ci hanno riportato su per poi svegliarci questa mattina con future negativi e comunque con un minimo ancora inferiore che ci consentiva comunque già un valido guadagno. Ma a parte questo, ok, il discorso è di capire più che altro il rapporto costo-benefici e rischi rispetto a quelli che possono essere i rendimenti in ogni operazione. Questo perché il fatto è molto semplice. La prima riflessione è che da qui, da questo massimo, abbiamo avuto un T-3 inverso laterale, non ribassista, quindi non ha continuato a vincolarsi al ribasso come il resto della struttura che, vi ripeto, qui dice quinto T-3 ma potrebbe essere ottavo, nono, decimo, undicesimo, nuovo T-3 inverso di una nuova struttura che si stacca dalla precedente perché sapete che qui ho collocato la voicina che ci dice è proprio partito un terzo T-3, un terzo settimanale inverso ciclico? Non lo sappiamo, ok? Però, intanto, da qui si è sviluppata una struttura rialzista o laterale rialzista per quanto riguarda l'inverso che, in teoria, può dar vita a un movimento più forte a ribasso che, peraltro, coinciderebbe con la chiusura di un T-1, del primo T-1 di questa struttura che ormai possiamo definire settimanale. Un T-1 è la metà del settimanale. E una metà del settimanale è già una buona discesa perché un T-4, ovvero, è orientativamente un 3 ore, 4 ore a ribasso. Per cui, interessante come cosa? Interessante come ribasso da prendere che può, appunto, riportarci verso il basso. È interessante vedere questa candela che si colora di rosso e se sentirete un cicliccio mentre faccio l'analisi significa che siamo andati a target, comunque. Che cosa significa? Significa che si stende volendo la struttura di nuovo principale di indice a favore di quella di inverso e quindi può partire che cosa, effettivamente, poi? Può partire arriviamo qua dopo un inverso che è arrivato per ora qua a 7 barre più 1 è vero che c'è tempo per arrivare fino a 11 ma se qui, da questa barra giornaliera in poi, ci stacchiamo parte il nuovo T più 1 inverso o, come minimo, un nuovo T inverso un nuovo settimanale inverso che quindi spingerà verso il basso l'indice per cui a noi interessa molto come informazione oltretutto non riusciremo dalla cumo e non riusciremo a superare la media mobile a 50 periodi prezzata a 12.917 questo per quanto riguarda il nostro DAX per quanto riguarda il FTSE MIB la forza relativa, come vedete, è sempre infinitamente più bassa per cui la caduta è stata molto più forte abbiamo avuto, quindi qui va rifatto di nuovo il discorso anche se continuiamo ad essere in gioco perché questo massimo è stato superato i 19.231 sono stati superati qui no vedete 19.231 massimo fatto qui 19.222 quindi la situazione può essere molto differente da qui può essere effettivamente partito un T inverso che è estremamente laterale e che a un certo punto potrebbe già far partire una nuova struttura esattamente da questo massimo qua una nuova struttura che però va comunque considerata per il fatto che qui stanno gettando tanto fumo negli occhi d'accordo perché abbiamo una struttura di indice che teoricamente si interrompe al quinto T-3 ma se tornassimo sotto ecco sarebbe una struttura di indice che poi torna a far parte di questi ottimi perché non c'è stata la violazione di questo massimo e in questo caso avremo la partenza perlomeno di un secondo T-1 inverso secondo metaciclo inverso settimanale proprio da questo massimo a 12 fatto alle 12.30 per cui la spinta è molto forte bisogna capire se appunto parte un secondo T-1 anche se come vedete a ogni tentativo di andare sotto determinati livelli chiavi come quelli della Kumo corrisponde un rimbalzo tra l'altro da vedere se riuscirà a ritornare a chiudere il get down fatto proprio in apertura quest'oggi per cui facciamo un riassunto di ciò che mi aspetto ok? per farla più semplice come al solito allora in questo caso dopo il terzo T-3 sta partendo probabilmente da questo minimo il quarto T-3 di indice che proverà ad andare su andrà in violazione probabilmente dei 12.829 ma successivamente se non andrà in violazione di questo massimo ci accompagnerà nella chiusura del primo T-1 e quindi ci sarà dopo una spinta a rialzo prevalenza di ribasso per il resto della giornata soprattutto nel pomeriggio quindi shortary top con target beh questo ormai l'avete visto anche se l'algoritmo ci ha già dato i nuovi livelli per oggi 12.732 piuttosto che il livello inferiore di supporto dato appunto dalla media mobile a 200 periodi per quanto riguarda il nostro il nostro Fuzzimib anche in questo caso no anzi in questo caso possiamo già aver avuto una chiusura di T-1 e bisogna vedere appunto che cosa farà rispetto al nostro alla nostra media mobile a 200 periodi anche perché se da questo minimo come penso è partito appunto un nuovo ciclo dovrà rimanere perlomeno su un due orette orientative di un T-5 e poi in base alla forza relativa che avrà uno potrà valutare di provare a mettersi long perché effettivamente se parte da qua un secondo T-1 avrà una spinta perlomeno per una giornata viceversa la struttura continuerà a collassare e quindi notate bene che DAX e Fuzzimib si stanno scollando dalla stessa struttura che avevano in precedenza ok cosa molto importante da notare perché è sempre importante vedere le differenze che ci sono tra i mercati penso di averla già fatta troppo lunga per cui vi lascio al al trading dopo le 10.01 e vi auguro una splendida giornata